E ora, buon divertimento con Sassani in piazza. Ma Valeridense, perché Valeridense? Perché è stata chiamata così per mia figlia. E si chiama Valeria? Ma è una scuola anche importante. Tra l'altro so che adesso andremo a vedere una coppia che ha fatto grandi cose anche a livello... Certo, campionessa italiana e anche il suo nuovo ballerino è un campione. Ballano insieme da poco, però li vedremo all'opera più fa. Voi avete dei campioni che poi andremo a conoscere, sono i grandi, adesso con i bambini. Andremo a conoscere la baciata adesso, prego, i ballerini della baciata. Chiamiamo il signor Gavino, la signora Marta. Partiamo con la baciata, vai, la baciata, iniziamo. Il signor Giacomo e la signorina Valeria. Bene! Questi coppie sono campioni regionali. A ver tu. No se lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar. Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estarà. No merezco lo que me hiciste una bella, ya no compro, ya no duermo, esperando tu regreso. Y Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si non lauperà, via, la bambina, dove tu estás? Cuando me vassi, cuando me vassi, comandarai, nella mia bella. Grazie a tutti. Grazie, queste coppie rimangono ancora in pista perché ci presenteranno un cha-cha-cha. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.